Fino adesso senza aprire. Senti, ma lei è vero che fai i fiumetti per i bambini che spiegano il nuovo ordine mondiale? Assolutamente. Il signoraggio. Mi ha fatto un'ottima pubblicità il buon Paolo perché è quasi pronto la storia, la storia che non è una storia, sul signoraggio bancario che è il signoraggio e il denaro perduto. E per i bambini sta storia? E sarà per i bambini sempre in riba. Grande, quindi anche Paolo potrà capirla. Sì, esatto. Grande, potrei leggere il suo fumetto adesso. Non si parla più di Gabanelli. Gabba chi? Gabbanelli. Io non l'ho ancora capita però, devo farmi la spiegata. Dai, vabbè, puoi chiedere a Marco Saba che è amico di Paolo. No, è amico di Luca con Sonji. È amico di Gaetano. Ehi, ciao Marco. Ciao Marco. Salutaci le sei punte.